Salve a tutti ragazzi, allora Torino-Milan 0-7, incredibile, goleata, io dato che devo fare, insomma sono impegnato, l'ho vista la partita, ho visto i gol, ho visto diciamo un po' in generale, insomma, l'andamento della partita, però non ce n'era manco bisogno, perché Teo Hernandez apre con un gol fantastico, poi fra anche sì sul rigore con Castievo che per l'ennesima volta non riesce a centrare, mamma mia, vabbè, comunque. Dicevamo, allora, non riesce a centrare comunque, poi il gol del 3-0 lo fa Brahim Diaz, poi il 4-0 lo fa Teo Hernandez doppietta e poi altri tre gol li fa Ante Rebic, tripletta per Ante su azione incredibile ragazzi, goleata rosso-nera incredibile, cioè io non ci posso credere ragazzi, cioè veramente non ci posso credere, cioè il Milan veramente è una partita super da parte del Milan, veramente super, cioè i rossoneri che fanno una cosa del genere, cioè io non ci posso credere, veramente bellissimo, rossoneri fanno 7 gol al Torino, incredibile, cioè veramente ragazzi, 7 gol è una cosa veramente fantastica, no gold, 7 gol, gli abbiamo fatto 7 gol e gli abbiamo fatto al Torino, Torino umiliato dal Milan, allora, veramente, veramente ragazzi, io non so che divi, dal 5-0 contro l'Atalanta al 7-0 contro, ehm, contro come si chiama, adesso contro il Torino c'è incredibile il Milan, che passi dal gigante, mi dispiace che contro l'Atalanta il Milan sarà a pezzi, un peccato, perché potremmo veramente provare a sorpassarli, veramente si poteva provare, però non ce ne frega, l'importante è la Champions League, che se no qua rischiamo veramente grosso, comunque, forza Milan sempre, non ho risultato in maniera, eccetera, perché ragazzi, io da milanista ho un gran rispetto per le squadre se le battiamo con troppi gol, mai deridere chi perde, mai, è la mia politica, a parte chi c'è deriso per primi, mi ha fatto piacere vincere tutti questi gol, comunque perché contate il fatto che si trattava pur sempre di una squadra al Torino che nel 2019, mi spiace Torinesi, io non dimentico, ci avete impedito di entrare in Champions League battendoci 2-0, con, come si chiama, Belotti e un altro, non ricordo, che fece un gol sul rigore, e ci sogniamo nel 2019 la Champions League in favore dell'Atalanta, cosa che a me fece molto incazzare, perché sostengo che quell'anno il Milan meritasse di tornarci in Champions League, però, ripeto, adesso l'importante è vincere con il Cagliari per andare matematicamente in Champions League e cercare di limare la differenza con le altre, comunque, grande Milan in ogni caso, questa stagione è una gran bella stagione di rossoneri, comunque, ripeto, ora l'importante è concentrarsi e andare avanti, ok? Io devo farlo pure stanco, ma vado a dormire, allora, ripeto, ragazzi, bella a tutti quanti per la bella serata, grazie a Milan per la bella serata che mi hai fatto passare, sono stanco per me, la partita è stata comunque bellissima, siamo entrati nella storia che 7 gol il Milan non l'aveva mai fatti questa stagione, si cambia tutto, cioè, il gol più veloce della Serie A l'ha fatto il Milan, poi che ci sta, aspettate, il gol più veloce della Serie A l'ha fatto il Milan, poi con le A, poi con il Sassuolo 1-2, poi vinciamo un derby, vinciamo con la Juventus in trasferta, vinciamo con il Napoli 3-1, cioè, manca solo che battiamo l'Atalanta in casa loro, anche se non credo che, insomma, è molto improbabile, è incredibile, cioè, sai, Milan, già così è fatto la storia, potrebbe farla ancora di più, comunque, ripeto, ora pensiamo al Cagliari, Milan-Cagliari molto importante, e sempre forza Milan, raga.